Questo salmo è attribuito a Re Davide che così chiedeva perdono a Dio per due peccati molto gravi che aveva commesso e cioè l'adulterio con Bezzabea e il fatto di aver provocato la morte di Uria, marito di Bezzabea. Qui sono le anime invece che hanno subito, che sono morte, uccise che invocano quindi pietà, pentimento dei loro peccati. Questo salmo lo vediamo citato da Dante anche in altre occasioni, nel primo canto dell'Inferno e poi lo vedremo ricordato altrove anche nel corso del pubblicatorio. Dunque arriviamo al canto undicesimo, col canto undicesimo siamo alla prima cornice, quella dei superbi. A questo punto si entra nel purgatorio vero e proprio e si comincia da quello che è il vizio più grave. Ricordiamo che qui ci si deve purificare innanzitutto dai vizi, non tanto dai peccati, i peccati sono una conseguenza dei vizi. Siamo all'11 aprile del 1300, i superbi recitano, non cantano, il Padre Nostro, l'Orazio Dominica, insegnata da Gesù ai discepoli e il Padre Nostro è l'unica preghiera riportata per intero, tradotta in volgare da Dante, da lui spiegata e recitata, non cantata. La leggiamo insieme. O Padre Nostro, che nei cieli stai, non circoscritto, ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome, il tuo valore da ogni creatura, come degno di render grazie al tuo dolce vapore. Venne per noi la pace del tuo regno, che noi, ad essa, non potem da noi, se da non viene, con tutto nostro ingegno. Come del tuo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te, cantando osanna, così faccian gli uomini te suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la quale, per questo aspro diserto, a retro va chi più di gir s'affanna. E come noi, lo manca, ben sofferto, perdoniamo a ciascuno. E tu, perdona benigno, e non guardarlo nostro merto, nostra virtù, che di leggersa dona, non spermentar con l'antico avversaro, ma libera da lui che si la sprona. Quest'ultima preghiera, signor caro, già non si fa per noi, che non bisogna, ma per coloro che dietro a noi restaro. Quindi a ogni versetto del Padre Nostro, Dante aggiunge una sua spiegazione, una sua interpretazione. L'ottava terzina dedicata al Padre Nostro, invece, è rivolta a chi ancora in vita. Quindi, sono le anime del Purgatorio che, con questi tre versi, intercedono per coloro che sono ancora vivi. Vediamo qui un altro esempio. Canto XVI, siamo nella terza cornice, quella dedicata all'Ira, e gli racconti sono avvolti in una nebbia che ricrea quasi un'atmosfera infernale. Dante così scrive Io sentì a voci, e ciascuna pareva pregare per pace e per misericordia l'agnello di Dio che le peccate leva. Pur agnus dei erano le loro essordia, una parola, in tutte era e un modo, sì che parea tra esse ogni concordia. Lunedì 11 aprile del 1300. Allora, questo, tra l'altro, è il cinquantesimo canto di tutta la commedia. Siamo al centro del poema e qui le anime cantano l'anus dei, cioè una preghiera eucaristica, quella che ancora subito prima della comunione noi recitiamo durante la messa. E osserva uno studioso, Corrado Bologna, dall'agnello di Dio che le peccate leva è un coro di concordia davvero universale, cantato in perfetta intonazione dalle anime che stanno espiando l'ira. Come l'ira è stata fortemente divisiva in vita, così adesso, cantando concordi agnus dei, sperimentano le anime, sperimentano la bellezza dell'unità, della solidarietà e della concordia. Arriviamo qui alla sesta cornice, la penultima, i golosi. I golosi qui sono puniti con un'esasperata magrezza, soffrendo la fame, insomma anche nel purgatorio vediamo che le pene sono spesso improntate al contrapasso, come già se l'ha visto nell'inferno. Quindi canto ventitresimo. Siamo a martedì, 12 aprile, dopo mezzogiorno. Ancora qui vediamo un'altra citazione, sempre dal Miserere, il Salmo 50 che abbiamo visto nel canto quinto e che troveremo ancora nel canto trentunesimo quando Matelda conduce Dante attraverso il fiume Lete. Perché qui di nuovo il Miserere? Naturalmente il pentimento è sempre necessario, in questo caso come la parola chiave è l'abia mea domine, come le anime hanno fatto cattivo uso della bocca in vita, ecco che adesso invece ne fanno buon uso cantando un salmo penitenziale. Ecco, vediamo dunque adesso l'ultimo momento del purgatorio. A questo punto dal canto ventisettesimo in poi si apre l'ultimo atto del percorso purgatoriale di Dante. Siamo al tramonto, notte, alba, tra il martedì 12 e mercoledì 13 aprile verso il paradiso terrestre. È il momento di passaggio. Dante deve varcare il limite del fuoco ed entrare effettivamente nel paradiso terrestre. Passato il muro del fuoco ci sarà da una parte il congetto di Virgilio, che è il simbolo della ragione umana. A questo punto Dante non ha più bisogno di lui. A questo punto anche Dante si è purificato da tutti i propri vizi e la sua volontà è ormai perfettamente il suo arbitro è perfettamente libero, integro ed è indirizzato al sommo bene. Il principio dell'amore ormai è rivolto il bene per lui è rivolto a Dio non è più distratto dalle cose terrene e il percorso insieme con ha condiviso il percorso di preghiera le preghiere delle anime l'hanno accompagnato a questo punto non ci sono più anime oranti lui è solo, libero di là dal muro del fuoco e è il Dante Viator, il Dante Pellegrino essenzialmente questo ed è il Viator e Pellegrino insieme con tutta quanta l'umanità lui rappresenta in questo momento da questo punto in poi tutto il percorso di purificazione che l'umanità stessa deve fare. Ecco qui brevemente una sintesi adesso questa non la leggo non la commento dei testi che numerosissimi una scelta di quelli che in questo percorso mi sono stati di particolare aiuto ricordo in particolare la lettura d'Antis Romana tutti i saggi dedicati al purgatorio ci sono anche diverse tesi di laurea dedicate al purgatorio alla Divina Commedia non solo da un punto di vista squisitamente letterario ma rivolte anche a un approfondimento spirituale e religioso il messaggio spirituale e religioso che questa grazie a tutti è un argomento mazzo che se si fa qualche domanda non si finisce sì le preghiere sono tantissime uno dei problemi è stato anche quello di sceglierne per stare nei limiti del tempo e poi sono preghiere insomma anche anche in uso il miserere addirittura è sconfinato anche nella musica leggera certo con zucchero con certo quindi diciamo ha contaminato anche un mondo molto lontano sì va bene allora ringraziamo Maria Giulia e chiamiamo Maria Luisi ti preparo un attimo l'ambiente grazie a tutti 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 tu vai con la cartella giusto si vedete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti quest'anno ha preso un argomento anche lei sul purgatorio partendo da un versetto particolare del purgatorio ce lo vuoi ricordare questo versetto che hai scelto? Sì, qua ne parlerò diffusamente sono i versi che fanno riferimento a una presenza angelica con strumento musicale che accompagna il pellegrino proprio nel suo passaggio appunto dal purgatorio di fatto al paradiso più vicino? Ancora di più? Ancora di più? Ecco Grazie, sì, io intanto ringrazio anch'io il dottor Pace e gli organizzatori per l'invito a partecipare appunto l'anno scorso eravamo qui anche a parlare di un altro tema iconografico io appunto sono molto grata a Claudio per l'entusiasmo con cui anche accoglie queste mie ricerche recenti questo progetto in particolare che sto portando avanti lo dico perché l'argomento di cui tratterò oggi cercando di essere il più sintetica possibile è un argomento che si inquadra appunto in una ricerca che sto portando avanti da alcuni anni legata proprio all'iconografia musicale nell'Umbria meridionale l'anno scorso avevamo parlato di un bel esempio di coro angelico su cui è stato fatto un progetto insomma che adesso finalmente ecco per colpa diciamo del covid appunto non è stato diciamo completato nel senso che è tutto pronto deve essere inaugurato si tratta appunto di un progetto legato a questa raffigurazione che si trova nella cattedrale di Narni la palla di Tirlandaio ha già avuto la sua installazione questo invece è il cupolino che è al di sopra della tomba nell'altare della confessione di San Giovenale è appunto una scena molto singolare sulla quale è stato realizzato